Ecco qua, il solito spot di una maratona. Lei che corre all'alba, lo slow motion, belle immagini, ma sai che palle? Ci vorrebbe qualcosa di inatteso, tipo... tipo degli zombie! Ecco, ora ci siamo! Tensione, adrenalina, andiamo, un po' di originalità. E questo è il momento dello slogan figo. La spot è finito. Carina, no?